Un nuovo appuntamento con le giornate della prevenzione. La seconda tappa del tour promosso dal Centro per l'Udito Agropoli sarà il prossimo 23 febbraio a Capaccio Scalo. Sempre in collaborazione con l'Avis Comunale di Agropoli e con il coinvolgimento del gruppo donatori di Capaccio, dalle 9 alle 13 sarà possibile per adulti e bambini richiedere una consulenza in molteplici campi della medicina. Grazie alla presenza di due emoteche e agli spazi dell'Oratorio San Vito, in Piazza Santini Carlo, saranno ospitati diversi specialisti per ampliare il più possibile l'offerta al pubblico. Ogni tappa del tour prevede la collaborazione di personale medico specializzato in ambiti differenti, così da coinvolgere il maggior numero possibile di discipline sanitarie e proporre clinicamente nuovi incontri. Per questo secondo appuntamento la visita audiometrica e quella nutrizionistica saranno totalmente gratuite, mentre per la consulenza oculistica e per quella cardiologica è previsto un contributo di 20 euro. Visto il grande successo della prima giornata del tour, ci sarà anche la possibilità di richiedere esami del sangue generali o analisi per la prevenzione femminile e maschile, rispettivamente osteoporosi ed esame della prostata, a un costo simbolico di 10 euro. Inoltre, con una spesa di 15 euro, sarà possibile per le donne effettuare un pap test come screening per l'infezione e l'HPV. Gli organizzatori consigliano la prenotazione telefonando alla sede Avis al numero 0974 27 17 50 o al 345 83 89 667 dalle ore 8 alle ore 20. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dottoressa Ludovica Iodice al numero 333 44 84 424.